e non farmi parlare e non farmi parlare e non farmi parlare ti devo dire le parole aspetta e non ci parla e parla raccontami perché se no non dormo più perché era troppo e va bene si chiama Luana Luana c'è tutto il programma c'è tutto è poco ma proprio Luana Luana non è significa Luana non è Luana non è Luana è Luana con la sorpresa è una sorpresa ciao siamo Peppe ciao Gianni tutto bene e tu felice ho giusto il tuo sorrisino sempre i piattini stavo sistemato oggi sono contento sono sfortunato col pelo eh sì ho fatto una bella serata ieri sera una bella serata sì sì una bella serata ho fatto racconto ma si pregi Pasquale che ti racconto ciao 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 Pasquale che hai fatto? ieri sono riuscito con una ragazza che l'ho incontrato bella 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 ragazza bella una bella cena bella 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 cena un bel istolantino come di candela come di candela e poi in macchina abbiamo incominciato le cose che si fanno in macchina no poi dalla macchina al divano divano ma lei ce la rimane non fai tutti i modi 69, 70, 84 avete tirato la tombola è un lotto è un lotto e beh beh ma tu sai io so che sei uno di modto insomma che io devo fare così che tu ma sai prende posto la situazione ricordi tu sei uno che nega sguadando i problemi non sai ma chi è questa mi racconti io magari se la conosco vedo che botto pure io ma l'hai visto la ragazza di chi di sera ah ragazzi io ti ricordo il capo capito di più di fino a qua qua arriviamo qua qua o qua qua ma come si chiama? no no ah vedi te li sai diverti? eh ma Fabio ci siamo chi ne fa? si si racconta mano non le preoccupate hai capito ne parca hai fatto un cuore hai fatto una sorpresa sta così Grazie a tutti.